Questo sono io un po' di anni fa, quando la hit del momento era volare di columbro. Qualità cinematografica ripresa con la fotocamera di una cabina del telefono, ma dovete assolutamente vedere come mi ingegnavo per effettuare alcuni lavoretti sodomizzando un povero avvitatore. Volevo rettificare la testa svasata di un perno, l'avvitatore utilizzavo con l'ausilio di qualche lima. Limavo la parte in eccesso, per poi passare alla carta abrasiva del 1000, per poi lucidare con salsa di gamberetti. Ottimo risultato, direi. Guardate le differenze. Ma anche quando dovevo accorciare dei tondini di plastica, usavo questo sistema per avere un taglio perfettamente a 90, oppure se dovevo lucidare dei tondini di metallo applicavo questo metodo e ho sempre ottenuto risultati ottimali. Tra l'altro è una tecnica che utilizzo ancora e che ogni tanto mostro nei miei video. Magari potrebbe essere utile anche per voi. Mi raccomando, testine, fate diventare virale questa cacata di video e giuro che i prossimi li registro con il video citofono. Uno dei miei primi video che ha generato molte views, e poi sarei io lo strano. Dopotutto, anche questa è trapano torneria.